Uno dei maggiori problemi in ambito medico a livello internazionale è costituito dalla sindrome della sinistruttiva del sonno. Questo è un acronimo inglese che sta a indicare un quadro clinico caratterizzato sostanzialmente da russamento e da sonnomenza di urna. Il russamento però è qualcosa che fa parte della quotidianità di tutti noi, tutti noi russiamo a qualunque età quindi non deve preoccupare il fatto che si russi, è importante invece valutare se il russamento ha caratteristiche particolari, qual è il fatto di essere abituale come viene definito, cioè da diversi mesi, persistente, cioè presente sostanzialmente tutte le notte indipendentemente dalla posizione corporea del soggetto a letto e può essere spesso intermittente, quindi con delle pause respiratorie che stanno a indicare non tanto che il soggetto smette di respirare, ma il fatto che si è creata un'ostruzione a carico delle vie aeree superiori, quindi nella regione che è posteriore alla lingua, che impedisce il passaggio dell'aria. Quindi il soggetto non è che smette di respirare, si ha questa impressione ascoltandolo, ma in realtà se lo guardiamo vediamo che comunque ha dei movimenti sia addominali che del torace, quindi trattasi di un soggetto che continua a voler respirare, ma ha un respiro efficace. L'altro sintomo caratteristico è la sonnolenza, anche in questo caso tutti noi siamo sonnolenzi durante il giorno, un pasto più abbondante, siamo andati a letto tardi la sera, quello che è invece importante è che la sonnolenza sia associata nello stesso soggetto a russare che si tratta di una sonnolenza grave. Per grave intendiamo quella sonnolenza che in genere compara anche quando viene chiesta una elevata attenzione a parte nostra, quindi quando mangiamo, quando parliamo, quando guidiamo un veicolo, sia anche un veicolo industriale, quando leggiamo una pratica, se abbiamo un lavoro in ufficio. Allora in questi casi parliamo di sonnolenza grave e questo deve farci pensare, specie se è soggetto russa abitualmente, che questo soggetto possa avere una sindrome della prima struttura del sonno. Ho già detto in precedenza che è di estrema rilevanza nella popolazione generale, ora non abbiamo dati precisi in Italia, però dati epidemiologici pubblicati a livello internazionale documentano che addirittura circa il 50% del maschio adulto e circa il 23% della donna adulta possa avere questo problema di salute. In realtà è un problema di salute molto rilevante, tant'è vero che il Ministero della Salute ha proprio in questi giorni ultimato la redazione di un documento nazionale che è di indirizzo per la gestione di questo problema. Evidentemente nel momento in cui il Ministero della Salute si occupa di un problema di salute, ciò vuol dire che è di interesse non solo per il singolo, ma anche per la società. Allora, che cosa determina la prima struttura del sonno? Determina sostanzialmente un sonno non ristoratore, cioè il soggetto si sveglia, che non è riposato, spesso è sudato, con la bocca asciutta, perché respira abitualmente dalla bocca. Questo è quello che lui percepisce o che gli fa percepire chi dorme con lui. L'altro aspetto importante è che col tempo, se non diagnosticata precocemente non curata, determina una serie di complicanze cardio-celebro-vascolari, cioè si tratta di una condizione clinica che è fatta di rischio indipendente sia per l'infarto sia per l'ictus. Questo è ormai documentato, come è altresì documentato, che il trattamento comunque imperisce che si affedano questi tipi di complicanze. Un'altra cosa che osserviamo abitualmente è che spesso si osserva la prima nel soggetto obeso, ma questo non deve ingannare perché è comunque molto frequente anche nel soggetto in normo obeso, quindi nel lungilinio, specialmente se si tratta di un soggetto tra i 30 e i 50 anni. Altro aspetto importante sono le alterazioni metaboliche. È associata al diabete, ora non è ben chiaro se si tratti del diabete che con le sue alterazioni favorisce la comparsa dell'apne o viceversa. Probabilmente sono due situazioni cliniche molto diffuse nella popolazione generale che si rafforzano entrambe. altro problema è quello della sonnolenza, perché la sonnolenza può essere qualcosa che ci fa ridere o che ci fa sorridere quando siamo a cena con degli amici o di loro a difficoltà di mani a svegli, ma in realtà è ormai documentato che la sonnolenza eccessiva è caso di incidenti stradali e di infortuni sul lavoro. Ed è per questo motivo che a livello normativo europeo è stato deciso, con una direttiva che dovrà essere recepita entro la fine dell'anno, anche dell'Italia, che chiunque faccia richiesta della patente o del suo rinnovo debba esplicitamente essere valutato se ha l'apnea e se è in trattamento. La stessa osservazione si comincia a fare in ambito lavorativo. Si tratta di situazioni che avevano finora un interesse giornalistico e che quindi è finito e è riuscito a tornare a se stesso, ma per esempio Exxon Valdes si sa che causò il danno dovuto alla rottura della struttura della nave con l'inquinamento petrolifero per un problema di addormentamento del soggetto che la guidara. Questo solo per fare un degli esempi reclatanti. Per cui c'è grande interesse sia in ambito della guida dei veicoli che in ambito lavorativo per la definizione, per la valutazione dei soggetti che possono esserne affetti. Questo perché? Perché detengono un problema di salute, per cui non dobbiamo pensare che il soggetto che ha l'apnea sia un soggetto debilitato o che ha mendica, può avere un'endica, può avere difficoltà nelle relazioni sociali e lavorative se non sa di avere quel problema di salute, se non viene diagnosticato e se non è trattato. Le modalità diagnostiche esistono, sono facilmente realizzabili anche se al momento non sono ampiamente diffuse sul territorio nazionale, ma questo non è un problema soleditario, è un problema a livello internazionale. Si tratta di indagini strumentali facilmente realizzabili anche al domicilio del paziente che consistono sostanzialmente nel misurare e nel registrare come soggetto dorme. Si tratta di metodiche non invasive, non dolorose e che nella maggior parte dei casi, specialmente quando si tratti di quasi non complessi, possono essere realizzate al domicilio del paziente. Per quanto riguarda la terapia, la terapia consiste in diverse opzioni. Fino ad ora quella di maggior interesse e di maggior efficacia è sempre stata l'utilizzo della CPAP. La CPAP sembra uno strumento di tortura, come viene descritto, in realtà è una maschera che viene applicata sul naso e che è tenuta da una cuffietta regimaschera che permette che un flusso di aria continuo entri attraverso il naso nella loro del soggetto, quindi non viene introdotto nulla di meccanico nell'individuo, ma viene semplicemente realizzato un sistema terapetico che fa sì che la gola del soggetto rimanga aperta quando lui respira, cioè in pratica lo si aiuta ad avere un respiro efficace e valido. E questo è estremamente semplice da realizzare, il soggetto può andare in giro con questo spositivo e soprattutto lo deve utilizzare solo nel momento in cui lui decide di dormire, per intendersi. Non si tratta di una terapia antipertensiva che il soggetto deve assumere a quella loro stabilita, quindi si tratta di un trattamento che non incide sulle relazioni sociali, familiari o lavorative, perché non impone un orario di applicazione del trattamento, senz'altro deve essere applicato quando il soggetto dorme. È un sistema che fa stare il soggetto meglio, per cui quando lo proponiamo al soggetto questo trattamento in realtà ci guarda male perché dice come io già al respiro madre, lei dottore mi dice che si mette la maschera sul naso. Questo è importante spiegarlo correttamente e soprattutto far capire al soggetto di cosa si tratta, perché potrà avere benefici, anzi sarà lui a chiedere, di volere essere trattato. Fino ad ora il trattamento consistente sostanzialmente in questo, in realtà adesso si è avuto uno sviluppo enorme in termini di efficacia di dispositivi odontoiatici di avanzamento non di volare, che devono essere modellati all'interno del cavorare e questi permettono, in modo non cruento, di avanzare la mandibola di pochi millimetri o comunque di quello che è sufficiente per evitare che si verifichino le aprile durante la notte. E questa è una modalità terapeutica che si è affermata oggi e che ha la stessa validità di quella di riferimento che è la CPAP, della quale parlavo prima, specialmente in soggetti che hanno dei quadriglieri moderati. In soggetti con un problema particolare possiamo anche proporre un'opzione terapeutica di tipo chirurgica, sia otrolina o lungoiatrica, sia con un avanzamento mandibolare. Oltre a questo evidentemente c'è anche una serie di norme di igiene che consiste nel preferibilmente evitare di fumare, evitare di bere alcolici durante la sera, evitare quando possibile delle terapie con degli ansulitici o degli antistamici e cercare di dimagrire. Perché, ripeto, l'obesità, pur non essendo la causa unica, è comunque un fattore che facilita la comparsa dell'attene. Per cui, senza altro di dimagrire, che comunque fa bene ad un individuo per tutta una serie di fattori, è qualcosa che è verosimile che possa ridurre quantomeno la severità del quadro clinico. Grazie.